Romeo e Giulietta è la storia più conosciuta al mondo, è una storia d'amore e di odio, ma soprattutto secondo me di un grande amore, talmente grande che non ha paura neanche di affrontare la morte. Un amore vero, un amore puro, l'amore di due adolescenti, quello che ti fa proprio pulsare il sangue nelle vene a mille, quelle sensazioni che provi solo nell'adolescenza. Io sono la nutrice, sono la balia, sono con lei che a sua volta è madre ma non ha più sua figlia, quindi ha riversato tutto il suo amore per Giulietta, che adora e per lei farebbe qualsiasi cosa. Per me calarmi nel ruolo non è stato molto difficile perché anche io sono madre, perché sono un grande mio figlio, però insomma, quindi è nelle mie corde, è nelle mie corde. Niente, spero di vedervi tutti a teatro e ricordate, ama e cambia il mondo. Io. Grazie. 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 Grazie.